Benvenuti, benvenuti a questa diretta di oggi, una diretta speciale per alcuni versi, la diretta con cui il popolo della famiglia si presenta ufficialmente al paese per le prossime elezioni europee. Abbiamo presentato il simbolo, l'avete visto sui nostri post, il simbolo del popolo della famiglia alternativa popolare con la dicitura Partito Popolare Europeo benevidente. Saremo l'unica forza politica ad avere il riferimento diretto, per esteso al Partito Popolare Europeo. Renzo Herman ci scrive grande giorno ed è effettivamente un grande giorno. È un giorno che dobbiamo festeggiare, è un giorno che ci deve rendere molto lieti e orgogliosi. È un giorno in cui il popolo della famiglia dimostra di essere andato molto al di là dei propri limiti. Lo dicevamo già in piazza Montecitorio il 3 aprile, celebrando la firma numero 50.000 sul reddito di maternità. Il popolo della famiglia che aveva raccolto solo, si fa per dire, per le politiche 44.500 firme per presentarsi alle politiche del 4 marzo 2018. Nel 2019 va molto oltre quel traguardo, non solo, ma riesce a costruire un reticolato di relazioni nazionali e internazionali che lo proiettano in questa campagna elettorale nel cuore d'Europa, rappresentando proprio il più grande partito che ci sia al Parlamento Europeo. Per l'appunto, il PPE, il nostro slogan per la campagna elettorale sarà Ridiamo un cuore all'Europa, in cui l'accento è anche su quel ridiamo, cioè che vuol dire ridare, voce del verbo ridare, ma anche voce del verbo ridere, del verbo sorridere. Insomma, ridiamo, nel senso che facciamo questa campagna elettorale con allegria, con la nostra consueta bonomia, diciamo così, sapendo che siamo usciti dalle corde e ci siamo ripresi il centro del tappeto e, insomma, nel centro del ring noi possiamo davvero dire la nostra e dare ai nostri avversari i giusti colpi per affermare quelle che sono le nostre idealità. Salvatore Asero dice, capolavoro da Catania, ieri l'ho visto già stare al banchetto del popolo della famiglia con il cuore del Partito Popolare Europeo, con il simbolo del Partito Popolare Europeo, è stato molto bello quel tavolino, anche solitario a Catania, che aveva però questo accoppiamento. Saluto Daniela Tascini, saluto Alessandra Mondelli, sempre più bella, la vedo che ha già cambiato la sua fotoprofilo ed è già diventata la fotoprofilo del simbolo con cui ci presentiamo alle europee, anche la mia fotoprofilo è già cambiata, invito tutti gli amici del popolo della famiglia, anche quelli imbranati come me, ci ho messo due ore a capire come si fa, ma insomma si prende la mia fotoprofilo, che è il simbolo con cui ci presentiamo alle europee, la facciamo diventare fotoprofilo per ciascuno di noi. Vittoria Polacci, 16, siete stati bravissimi, è stato un lavoro di squadra, è un lavoro molto faticoso, molto snervante, vi dico i piani di questa attività sono estremamente faticosi, siamo arrivati ai massimi livelli, il nostro Nicola Di Matteo, il coordinatore nazionale, ha incontrato personalmente per siglare l'accordo il presidente del Partito Popolare Europeo, Giuseppe Dol, è con lui, ho anche mandato in chat la foto storica della stretta di mano da Nicola Di Matteo e Giuseppe Dol, che abbiamo chiuso l'accordo internazionale, con Paolo Alli invece, che è un esponente anche di Comunione e Liberazione, ed è soprattutto stato fino a settembre scorso il presidente dell'Assemblea parlamentare della Nato, stiamo parlando del più alto dirigente politico italiano nella sfera mondiale, ripeto, più alto dirigente politico italiano nella sfera mondiale, presidente dell'Assemblea parlamentare della Nato, che avremo l'orgoglio di avere nelle nostre liste, quindi gli accordi sul piano nazionale, internazionale, ad altissimo livello. Cosa cambia adesso? Chiede Diego Daterni. Cosa cambia? Cambia che siamo molto più forti, siamo potenzialmente in grado di essere centrali in questa campagna elettorale. Cambia tecnicamente che dal 7 al 17 di aprile ancora dobbiamo, come dire, consegnare le liste, fare tutta una serie di passaggi tecnici che non sono banali. Oggi è stato depositato il simbolo, insieme a tutta una serie di incartamenti che legittimano il nostro utilizzo del simbolo del Partito Popolare Europeo. Era questo il nodo politico da sciogliere. E insomma, Nicola Di Matteo sa quant'acqua abbiamo preso oggi, eccolo qui in diretta, una valanga di corse ed incorse, fatiche, è davvero un allagamento fino a ogni punto del nostro corpo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e abbiamo consegnato queste carte che ufficializzano non solo il nostro simbolo, ma anche la legittimazione all'utilizzo del simbolo del Partito Popolare Europeo, che, le ricordo, è il più grande partito transnazionale del mondo e ovviamente il più forte partito dell'Europarlamento. Quindi questo lavoro estremamente complesso, Maria Marroso dice tanta fatica, premiera a te tutto il PDF, è già un premio essere arrivati. Come dice Nicola Di Matteo, non siamo arrivati a niente in realtà perché le fatiche continuano, ma abbiamo centrato un risultato di enorme rilevanza. Chi raccontava un PDF ai minimi termini, all'angolo, incapace di reagire, sventrato dai cosiddetti fuoriusciti, eccetera, eccetera. Non capiva e non sapeva quello che stavamo fisicamente facendo. Saluto Jacopo Pioli, per esempio Jacopo è arrivato dalla Cina, mi sarebbe tanto piaciuto poterlo incontrare in questi giorni in cui era a Roma, poi è ripartito, ma sono stati proprio i giorni in cui io ero dentro questo frullatore che è stato devastante da tanti punti di vista, sono anche fisicamente stanchissimo. Chi mi è stato vicino lo sa, un po' nervoso anche nelle ultime giornate, ma insomma la posta in gioco era talmente significativa che era importante fare tutto perfettamente bene. Poi vedo Danilo Eonardi che sa come si fanno le liste elettorali, come si fanno tutti questi passaggi burocratici, e sa quanta difficoltà c'è in ognuno di questi passaggi, quindi il nervosismo è andato forse anche oltre, ho cercato di controllarmi, ma poi alla fine adesso sono veramente oltre. Saluto Mirko De Carli che ha vissuto anche un'altra fase della trattativa con altri soggetti del Partito Popolare Europeo e si sono dimostrati totalmente inaffidabili. Insomma, chi ci dava all'angolino un po' taciturni e moribondi non aveva capito quello che stavamo facendo. Stavamo costruendo la più grande operazione di recupero della radice del popolarismo in Italia da quando il popolarismo è sostanzialmente sparito ormai oltre un decennio fa. Lo abbiamo fatto con un percorso lungo, lo sapete tutti, siamo partiti da Camaldoli, il codice di Camaldoli. Abbiamo fatto ben due assemblee nazionali, l'assemblea del 17 ottobre successiva all'incontro con Papa Francesco, poi l'assemblea del 20 gennaio al Centro Congressi Frentani per ricordare Sturzo e appunto la radice popolare che ci riguarda. In tutti e due i passaggi abbiamo ribadito l'appartenenza alla famiglia del Partito Popolare Europeo, intanto vedo che vi scrivete con Silvia, praticamente mi ignorate, neanche ho letto cosa vi siete scritti per la verità, chi chi è? Anna, Anna, Ciappa e Silvia che si sono scritte qui sulla chat, comunque vi ringrazio anche per il sostegno che avete dato a Silvia che insomma ne ha bisogno perché un marito, lo dicevo oggi a Nicola, che anche sta domenica è sparito per otto ore e non si sa mai dove sta, ci sono i misteri, ecco per fortuna poi ci sono delle immagini del telegiornale che testimoniano quello che sono andato a fare oggi che è stata poi la giornata decisiva e formalmente anche campale per la presentazione del simbolo, lo ripeto con la legittimazione a usare il simbolo del Partito Popolare Europeo. Dicevo tutto questo percorso dunque Camaldo, l'Assemblea nazionale il 17 ottobre dopo l'incontro col Papa, l'Assemblea del 20 gennaio per ricordare i cento anni dall'appello ai liberi e forti, ribadire lo stare nel solco dello popolarismo struziano, ribadire l'appartenenza alla Casa Politica e al popolarismo europeo, non avevamo però insomma il timbro, quello che ha ottenuto Nicola Di Matteo proprio poche ore fa sostanzialmente definitivo di appartenenza alla grande famiglia del PPE grazie al lavoro di Paolo Alli, diciamolo con chiarezza, grazie all'interesse di Alternativa Popolare che è un partito del Partito Popolare Europeo e quindi ci ha traghettato in questa dimensione con questo incontro, con questo fecondo incontro, voglio dire noi ci posizioniamo alla partita del 26 di maggio con questa nostra intenzione di far vivere alla campagna elettorale per le europee questa nostra spinta, che è una spinta cristianamente ispirata, esplicitamente cristianamente ispirata, è anche molto intensa umanamente, vogliamo davvero ridare un cuore all'Europa, ridiamo un cuore all'Europa e ridiamo, ridiamo, nel senso anche facciamolo con la nostra capacità di essere sempre accoglienti, sorridenti, Ilari qualche volta, si dice Ilari o Ilari, bel dubbio, ma capaci comunque di trasmettere buon umore, ecco, non con la faccia torva dell'ideologia contrapposta dell'Io contro voi, ieri sapete sono stato svegliato oltre mezzanotte e mi dicevano di Pio e Amedeo che mi prendevano in giro al programma di Maria De Filippi, ecco, alla fine ho sorriso anche guardandomi lo sfottò di Pio e Amedeo e li ho ringraziati per la grande pubblicità davanti a 5 milioni di persone con quella mega foto che hanno pubblicato, anche se poi mi hanno insultato, ma insomma, ormai sono al va bene tutto, va bene tutto, saluto Federico Pieroni che intanto corre a messa, va bene tutto perché quello che stiamo raggiungendo è davvero qualcosa di importantissimo, fatemi dare dei dettagli tecnici, poiché abbiamo depositato dunque questo accordo, le firme per le elezioni europee sono sospese, non servono più sostanzialmente, mentre continuiamo a raccogliere le firme per le amministrative, quindi per chi fa le comunali, per chi fa le regionali in Piemonte si continua a raccogliere le firme, raccogliamo le firme sempre e tutto il mese per il reddito di maternità, poi tra poco qualche giorno da Nicola Di Matteo arriveranno le indicazioni per cominciare a far arrivare a Roma i plichi con tutte le firme che avete raccolto per il reddito di maternità in maniera che poi le mettiamo insieme e le consegniamo a Roma proprio nel mese di maggio, proprio nel mese della campagna elettorale per le europee. Quindi lo ripeto, sospensione alle firme sulle europee, si continuano a raccogliere per le amministrative, si continuano a raccogliere sia per il Piemonte che per tutti i comuni dove ci presentiamo e si continuano a raccogliere per il reddito di maternità. Le liste per le europee saranno sostanzialmente quelle su cui abbiamo raccolto le firme, ci sarà magari qualche sacrificio da fare che chiederò personalmente ad alcuni dei nostri per far spazio anche legittivamente alle persone di alleanza popolare, ma continuiamo con convinzione un percorso che è quello che abbiamo aperto fisicamente stando per strada mesi fa. Hanno detto bugie su di te, Pio e Amedeo, è vero, hanno detto bugie, hanno detto le solite cose un po' sbagliate, ma insomma ci facciamo ormai l'abitudine. Ho scritto quello che ho pensato, cioè le persone poi si adeguano a alcune logiche delle lobby, no? Per cui adesso Pio e Amedeo, che una volta erano scorrettissimi con la comunità LGBT ed erano anche di grande successo per questa loro enorme capacità di essere scorretti, adesso si sono ritrovati a fare il solito insulto a Maria Di Nol e a doversi baciare Ricky Martin. Perché? Perché Maria De Filippi, perché a Mediaset si lavora solo in quella maniera, perché se tocchi quella lobby a Mediaset non lavori più, tant'è che la famosa trasmissione Emigratis, che era appunto quella scorretta nei confronti della comunità LGBT, pur avendo fatto ascolti altissimi, è stata cancellata dalla rete. Sono stati ricompensati Pio e Amedeo in queste nove puntate da Amici di Maria Di Filippi, ogni puntata il cascè ha cinque cifre e quindi sanno che devono comportarsi, come dire, secondo le regole dettate da quel contenitore mediatico, altrimenti, come dice Lodovico Pontoni, non vanno più in trasmissione, è molto chiaro. Fatemi salutare Antonio Iannacone, mi fa molto piacere trovarlo qui. Jacopo Pioli dice Perché se abbiamo raccolto 50.000 firme per il reddito maternità è necessario continuare? Perché, per esempio, sulle eutanasiane sono state raccolte 136.000 da Cappato e l'Associazione Luca Coscioni. Quindi, fondamentalmente, più firme portiamo a sostegno della legge sul reddito di maternità, più questa legge è sostenuta da un vasto consenso popolare. E per noi è molto importante che questo consenso si vede e sia chiaro ed evidente. Più ce ne sono, è meglio è. Meglio è. Al di là del margine di sicurezza, citato da Anna Ciappa, anche da Danilo, è proprio un'importanza politica essere supportati da più firme possibili. E in più, il reddito di maternità sarà il cuore della campagna elettorale, perché è il modo con cui il popolarismo si distingue dal populismo. Cioè, con una proposta concreta, praticabile, che risolve fisicamente mette i problemi delle persone, migliora la vita della gente, mette la famiglia al centro, mette i diritti delle donne al centro, attacca l'aborto non sul piano ideologico, ma sulla concretezza del far abortire meno persone possibili. È proprio la caratteristica dell'opzione popolare rispetto all'opzione populista che grida, magari fa vedere il feto di gomma, ma poi non concretizza mai alcun risultato sul piano politico. Noi, invece, con la legge depositata, oggettivamente ragionevole, riusciamo a metterci in connessione con tutti i cittadini, da qualsiasi provenienza vengano politicamente, un'idea trasversale, popolare, che riesce a farci parlare con le persone e che, se realizzata, concretamente risolve con poco dei problemi significativi della famiglia in Italia. Combatte seriamente la piaga della denatalità, combatte seriamente con concretezza la piaga dell'aborto e dunque questo è proprio l'approccio popolare alla questione dei natalità e aborto rispetto all'approccio populista. Il popolarismo è concretezza, la lezione di Sturzo, concretezza, analisi dei problemi, proposta di soluzioni. L'ideologia, il populismo ideologico, è grida, ideologia fatta da Twitter, slogan, eccitazione di piazza, scontro, che poi però produttivamente non arriva a nulla. Tant'è che, come avete visto, al governo, con tutte le leve del potere in mano, hanno fatto per la famiglia e per la vita assolutamente niente. Ricordiamocelo sempre, assolutamente niente. Anzi, ci hanno regalato la triptorelina gratuita in decreto pubblicato in gazzetta ufficiale e in più, oltre a questo, ci hanno regalato anche la legge sull'eutanasia che, come probabilmente accadrà e come abbiamo detto in un convegno con Assuntina Morresi pochi giorni fa organizzato dal PDF Umbria, nel silenzio generale ci condurrà alla depenalizzazione dell'eutanasia e del suicidio assistito con conseguenze gravissime proprio per l'ignavia dei politici che fanno i toni ideologici sui congressi di Verona. Ma quando c'è da dire una parola seria a favore della vita e della famiglia non fanno nulla. Ricordatevi, nulla. come dice Sabrina Bosu fanno solo chiacchiere e slogan. L'approccio popolare è invece quello di andare a mirare al cuore del problema e provare a dare soluzioni concrete alle stesse. Partendo da un impianto culturale e anche un impianto se volete per chi crede religioso oggi ho pubblicato avete visto un articolo perché siamo popolari europei vi chiedo di leggerlo di rileggerlo sarà pubblicato sul numero della croce di martedì ma non per le parole mie ma per le parole che Papa Ratzinger il Papa Benedetto XVI consegnò il 30 marzo del 2006 ai popolari europei guarda un po' prima di ricevere nel 2018 il popolo della famiglia Papa Francesco l'unico partito che nel tempo recente è stato incontrato da un Papa come partito quindi come delegazione partitica non come singoli esponenti è stato il Partito Popolare Europeo ed è normale che un Papa non incontrerebbe mai o avrebbe poco da dire non si farebbe certamente ascoltare dai socialisti per capirci o dai liberal democratici può incontrarne singoli esponenti ma non è interessato il PSE o l'Alde o peggio ancora i comunisti del GUE o le fazioni di estrema destra che hanno magari all'interno quelli che Di Maio chiama i negazionisti dell'olocausto ecco con loro non c'è nessun dialogo possibile da parte di un Papa il Papa ha voluto parlare ha parlato solo Papa Benedetto ha parlato ai relatori di un convegno del popolarismo europeo che si tenne a Roma nel marzo del 2006 e Papa Francesco ha ricevuto in piazza sagrato di San Pietro il 17 ottobre 2018 il popolo della famiglia questo link che è un link insieme tra due pontificati tra una storia che continua tra dei soggetti politici e insieme tutto tenuto da una comune ispirazione cristiana è il link che ci convince chiaramente di ciò che abbiamo fatto Emanuela Pongiduppi Euterri sta puntualmente pubblicando il link al discorso integrale di Papa Benedetto ne troverete una sintesi nel mio articolo ricordatevi che il discorso del 30 marzo 2016 è quello in cui Benedetto enuncia con precisione i cosiddetti principi non negoziabili quando alcuni mi chiedono ma quali sono i principi non negoziabili ecco bisogna leggere il discorso del 30 marzo 2006 al Partito Popolare Europeo perché lì Papa Benedetto gli elenca con precisione per quanto riguarda la Chiesa Cattolica sto leggendo l'interesse principale dei suoi interventi nell'arena pubblica è la tutela la promozione della dignità della persona e quindi essa richiama consapevolmente una particolare attenzione su principi che non sono negoziabili fra questi oggi emergono particolarmente i seguenti segnate bene 30 marzo 2006 sì non so se ho detto male la data 30 marzo 2006 quali sono i principi non negoziabili secondo Papa Benedetto ripeto non l'ha detto in altri contesti con le ultradestre con gli amici di Lameloni gli amici di Di Maio gli amici di Salvini con i socialisti europei con i comunisti europei con gli liberal democratici no aveva davanti tutti i popolari del partito popolare europeo e a loro ha affidato questo patrimonio l'enunciazione dei principi non negoziabili sono questi i principi tutela della vita in tutte le sue fasi dal primo momento del concepimento fino alla morte naturale riconoscimento e promozione della struttura naturale della famiglia quale unione tra un uomo e una donna basata sul matrimonio e sua difesa dai tentativi di renderla giuridicamente equivalente a forme radicalmente diverse di unione che in realtà la danneggiano e contribuiscono alla sua destabilizzazione oscurando il suo carattere particolare e il suo insostenibile ruolo sociale insostituibile ruolo sociale tre tutela del diritto dei genitori di educare i propri figli signori secco chiaro netto e questo è il programma del popolo della famiglia al parlamento europeo popolo della famiglia alternativa popolare da membro del partito popolare europeo fa proprie le parole di Benedetto XVI ai membri del partito popolare europeo molto secco molto netto molto chiaro tutela della vita riconoscimento e promozione della struttura naturale della famiglia diritto dei genitori di educare i propri figli un altro passaggio interessante è rivolto come complimento ai popolari europei apprezzo il riconoscimento da parte del vostro gruppo del PPE dell'eredità cristiana dell'Europa che offre preziosi orientamenti etici alla ricerca di un modello sociale che soddisfi adeguatamente le esigenze di un'economia già globalizzata e risponda ai mutamenti demografici assicurando crescita e sviluppo tutela della famiglia pari opportunità nell'istruzione dei giovani e sollecitudine per i poveri tutto chiaro? Abbiamo il programma abbiamo il programma del nostro impegno in vista del 26 maggio ce l'ha consegnato Papa Benedetto XVI consegnandola ai popolari europei di cui da oggi facciamo formalmente parte ci ha ribadito i principi non negoziabili ci ha chiesto la sollecitudine per i poveri ci ha chiesto un modello sociale che soddisfi e adeguatamente le esigenze di un'economia già globalizzata che risponda ai mutamenti demografici abbiamo semplicemente dice Cecilia la mia cara Cecilia Abbinia a questo punto nel discorso del Papa manca solo il reddito di maternità no c'è c'è perché quando dice la ricerca di un modello sociale che soddisfi ed adeguatamente le esigenze e risponda ai mutamenti demografici c'è la risposta anche che noi forniamo reddito di maternità perché poi la politica parte dai principi e li sviluppa in proposte questa è la nostra proposta reddito di maternità che è anche sollecitudine per i poveri cioè per le donne madri lasciate senza sostegno davanti alla maternità con grandissima chiarezza il reddito di maternità è incardinato in questo discorso e noi lo esplicitiamo lo rendiamo esplicito appunto come dice Cecilia Abbinia attraverso la nostra azione noi siamo in campo a raccogliere ancora e raccoglieremo ancora e faremo la campagna elettorale sul reddito di maternità perché questa è l'indicazione che riceviamo dal pontificato di Papa Benedetto insieme alla spinta che abbiamo ricevuto in piazza il 17 ottobre a San Pietro quando Papa Francesco ci ha invitato esortato ad impegnarci ancora di più per la famiglia sostenendo e sempre ripetendo che la famiglia non è ideologia questa è l'altra lezione importante che ci differenzia da altri la famiglia non può essere mai un elemento di approccio ideologico ma parte sempre dai bisogni delle persone questa è la differenza sostanziale che noi con la nostra scelta politica di campo come tutte le scelte evidentemente aperte anche elementi di contraddizione è inevitabile ma rispetto alle altre scelte questa è la scelta che è più coerente con il nostro giuramento iniziale voglio chiamarlo così quello del palazzetto delle carte geografiche di essere un soggetto di ispirazione cristiana fondato sulla dottrina sociale della chiesa autonomo organizzativamente posto a presidio dei principi non negoziabili questo è il nostro giuramento dell'11 marzo 2016 quando ci siamo costituiti in soggetto politico come popolo della famiglia questo è ciò che continuiamo a fare alle elezioni europee del 26 maggio 2019 in continuità con la lezione del papa benedetto sedicesimo e con l'invito e l'essere stati spronati da papa francesco dentro l'iniziativa politica chiamata popolo della famiglia alternativa popolare nel simbolo comune sotto legida del partito popolare europeo questo sentivo di dovervi dire oggi la giornata è importante volevo consegnarvi questo questo elemento insomma di importanza della giornata perché evidentemente c'è un elemento di importanza francesca battoni dice puoi spiegarmi chi c'è nel ppe di sinistra il ppe non è di sinistra è collocato nel proprio nell'emiciclo del dell'europarlamento nel centro-destra proprio e lo occupa quasi tutto perché è il più importante partito dell'orizzonte del centro-destra in Europa di gran lunga il 26 maggio in Europa sarà il gruppo parlamentare con più parlamentari eletti si sa già da adesso quindi la collocazione politica non ha nulla a che fare con le posizioni di sinistra certamente non è neanche assimilabile a quei gruppi di ultradestra che si chiamano populisti o nazionalisti alcuni dei quani hanno al loro interno quelli che Di Maio ha chiamato i negazionisti dell'olocausto quindi questa è la collocazione politica del PPE del Partito Popolare Europeo spero davvero come scrive Ghiatruscia Longobardi che questo 7 aprile 2019 vi venga mantenuto nel cuore stia nel vostro cuore Angelo Pintus dice bisogna riformare la candidatura dovremo fare le accettazioni di candidatura vi chiameremo da mercoledì prossimo per andare dal notaio a fare accettazione di candidatura e presentazione del certificato penale questa è una novità introdotta dalla legge ma Nicola Di Matteo Nicola Di Matteo vi darà indicazioni con un vatemecum ecco Nicola dice oggi è una festa stappiamo una bottiglia di Ferrari ma lui sta già a lavorare Nicola Di Matteo per prepararvi questo vatemecum affinché da mercoledì si stia in campo per fare tutti i passaggi formali ulteriori ce ne sono ancora tanti da fare e da fare bene per il deposito poi delle liste che accadrà il 17 di aprile ha ragione però Fabio Fabio Ceseri che dice è un giorno storico per noi è sicuramente un giorno storico è un giorno che ricorderemo è un giorno che insomma andremo a raccontare forse ai nostri figli ai nostri nipotini quando diremo vedete mamma e papà ce l'hanno fatta si sono impegnati hanno fatto questo sembrava impossibile veramente spes contra spam amici e fratelli del popolo della famiglia spes contra spam in tanti passaggi della nostra storia è stato molto molto complesso crederci e per questo il mio ringraziamento è immenso immenso alle centinaia e centinaia di militanti che hanno fatto in questo inverno in questi primi giorni di primavera il lavoro faticosissimo dell'esserci sul territorio e sappiate quanto ha pesato quell'esserci stati con i nostri simboli per strada ed essere notati da tanti notati da tanti leggo Cecilia Bini ha firmato la nipote di Santa Maria Coretti oggi mentre depositevamo le liste sapeste quanto ha pesato e quanto a stima c'è del popolo della famiglia perché ha dimostrato presenza territoriale sappiate questo quello che avete fatto in questi mesi facendo un enorme sacrificio enorme sacrificio passando tanti tanti giorni al gelo per strada ho postato le foto dei gazebo sotto la neve sotto la pioggia bene è stato un elemento fondamentale della vittoria politica che noi oggi possiamo salutare essere il partito politico l'unico che presenterà per intero e con espressione estensiva partito popolare europeo il simbolo del più grande partito d'Europa alle prossime elezioni del 26 maggio e ne siamo davvero orgogliosi ne siamo davvero orgogliosi siamo stanchi felici alcuni con le lacrime agli occhi e devo dire l'ho scritto anche che sotto questa pellaccia che è una pellacciatura e ne ha passate tante oggi un briciolo di commozione c'è stata leggo Mattia Leone che mi chiede di candidarsi sulle elezioni europee i candidati sono stati già definiti dal popolo e la famiglia se ci si vuole candidare sul piano amministrativo alle comunali alle regionali dove si vota tipo in Piemonte in altre realtà si può presentare la propria candidatura alle autorità locali caro Mattia a quando la festa è la festa quando avremo certezza di tutte le nostre liste consegnate c'è ancora molto da fare abbiamo dieci giorni Alessandra Mondelli la risposta è per te dieci giorni di altra fatica significativa ma quello che è successo oggi era non scontato in certi frangenti è sembrato non possibile poi è diventato non probabile poi abbiamo visto materializzarsi la concretezza e poi dice Nicola Di Matteo le due pellacce ma nel Nicola hanno tirato fuori questa giornata un po' particolare dove c'era tutto da rincorrere la pioggia che scendeva in maniera freddissima e a catinelle in mezzo a un caos assoluto che però poi si è risolto per fortuna tutto positivamente Silvio Restelli dice che non si vede bene io spero che la diretta in realtà sia stata gestibile Matteo Corrado dice come si fa a tesserarsi ecco questa è una cosa che vi devo chiedere siccome la campagna elettorale si fa con i fondi e i fondi nostri sono solo da tesseramento vi chiedo per favore chi può la faccia anche da sostenitore ma oggi subito andate sul sito www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora e andate a fare per favore il tesseramento al popolo e la famiglia quest'anno abbiamo spinto poco il tesseramento quindi ne abbiamo meno dell'anno scorso di tessere dobbiamo fare assolutamente uno sforzo per trovare qualche risorsa quindi per favore chi può www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora il marketplace della croce dove si può abbonarsi alla croce fare l'abbonamento sostenitore oppure solo tesserarsi al popolo e alla famiglia fare il tesseramento sostenitore serve davvero in questo momento una spinta importante da questo punto di vista perché i costi di una campagna elettorale per le europee sono enormi e li stiamo come sempre sostenendo con risorse risibili allora io vi ringrazio molto la prossima settimana ci ritroveremo io ho 5 iniziative già pronte già prenotate in 5 città diverse la prossima settimana e dunque ci vedremo in giro per l'Italia in più avremo da seguire appunto questi 10 giorni mi raccomando di seguire le indicazioni di Nicola Di Matteo per il varo formale delle candidature delle liste ricordatevi che stavolta chi si candida deve presentare il certificato penale perché è una nuova richiesta delle norme legge approvata il 9 gennaio del 2019 la cosiddetta spazza corrotti quindi va presentato il certificato penale per la presentazione della propria candidatura dunque spero spero davvero che qualcuno di voi legga quell'articolo che ho scritto poco fa perché siamo popolari europei domani lo metteremo sulla croce l'edizione della croce che esce martedì come editoriale rileggetevi Papa Benedetto per avere diciamo i tratti di ispirazione sul quanto è importante essere nel PPA in questa tornata ricordatevi questa giornata straordinaria la indico perché questa è una giornata straordinaria sul piano personale per la nostra famiglia questo è il momento in cui Papa Benedetto e Papa Francesco benedice Ioanna Benedetto che da lì a pochi giorni sarebbe nata e mentre io gli consegno la spilletta del popolo della famiglia quindi ma è stato anche quello un momento decisivo del nostro percorso che ci ha condotto fin qua vi ringrazio davvero molto per l'attenzione a questa diretta saluto Salvatore Leone la cui figlia è tra le candidate tra l'altro alle europee saluto Patrice Lozeral saluto Giorgio oddio mio gli occhi mi stanno incrociando Giorgio puoi tranquillizzare la situazione per chi legge Alternativa Popolare Alternativa Popolare molti sanno è il partito fondato da Alfano ma Alfano da tempo non è più in politica e ho pubblicato anche sotto al post che cambia la mia foto profilo l'articolo in cui gli Alfagnani cioè per capirci Maurizio Lupi quelli che non sono diciamo così proprio nel nostro cuore sono tutti usciti per andare con Berlusconi quindi noi candidiamo alle elezioni il rapporto ce l'abbiamo con questo Paolo Alli che è un personaggio di enorme statura presidente dell'Assemblea parlamentare della Nato fino al settembre scorso lo ripeto quindi personalità di livello mondiale oltre che cattolico vero di comunione e liberazione anzi invito tutti visto che lui si candiderà nel nord ovest tutti a dargli la preferenza perché è davvero un onore per noi avere un candidato di questa levatura all'interno della lista che presentiamo alle europee ed è anche la risposta a chi ci diceva che noi eravamo incapaci di costruire alleanze siamo capaci ma ci scegliamo le brave persone per fare le alleanze è la nostra modalità non con chiunque e non per sede di potere non con il primo twitterolo vice premier che passa perché ci è utile stare col vice premier ma solo con quelli che si impegnano concretamente a fare le cose in una sintonia che è anche di fede vorrei dirlo perché non è una cosa che è eliminabile dal nostro percorso noi siamo sempre un partito laico aperto anche a persone che non credono ma è chiaro che la forza per fare battaglie come queste deriva da una fede incrollabile e vi assicuro che se non avessi avuto fede in più di un momento in più di un frangente avrei completamente mollato perché sembrava del tutto insensato andare avanti e invece ancora una volta ha avuto ragione l'amico quello con la A maiuscola che mi ha detto devi continuare devi continuare non me l'ha consigliato non me l'ha dato come scelta me l'ha dato come obbligo quindi ho dato retta all'amico quello con la A maiuscola e ho continuato perché era necessario farlo anche spes contra spam mettendoci tutto 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 quello che potevo metterci in questo tipo di percorso anche fino al punto da farmi prendere per il culo ho una parolaccia la potrà pure dire da Pio e Amedeo nel programma di punta della televisione italiana seguito da milioni e milioni di persone come è accaduto ieri sera ma si vede che il signore voleva tenermi con i piedi per terra dice ti faccio prendere per il culo da Pio e Amedeo così non è che te pensi di essere chissà che ma domani poi ti regalo una giornata fantastica come questo 7 aprile che è davvero è stato un pezzo di cuore visto rimbalzare su un tavolo praticamente per la gioia che abbiamo provato poi nel momento in cui effettivamente il risultato è stato ottenuto grazie davvero a tutti voi un abbraccio e noi ci ritroviamo con qualche diretta quando si potrà fermo restando che da oggi questo simbolo il popolo della famiglia alternativa popolare partito popolare europeo è il nostro simbolo per le elezioni europee per le elezioni amministrative invece vige sempre il vecchio simbolo presenteremo sempre quello che ha bisogno della delega all'utilizzo del simbolo ne ho firmate tante dal notaio per cui basta che sente Nicola Di Matteo le deleghe sono già pronte non ce le fate sprecare perché sono centellinate ma chi ne ha bisogno può sicuramente rivolgersi a Nicola Di Matteo per avere la delega all'utilizzo del simbolo per le amministrative un abbraccio a tutti voi da Maria Di Nolfi un abbraccio a Natalina Minuz a Maria Cristina Tanzi a Francesca Panicucci che è arrivata in diretta davvero una giornata che è stato bello vivere insieme un saluto anche a Francesco Iacobini che sarà lieto di sapere che finalmente un partito popolare c'è lui vecchio popolare anche a queste europee dunque potrà votarlo un saluto a Germana Biagioni al grande Salvatore Di Marino un abbraccio forte a Marco Rapetti a Rigoni le cui analisi sono sempre molto molto precise Fabio Baroncini che mi ha visto dal Sant'Orso di Bologna un abbraccio a te Fabio alla tua famiglia al piccolo sempre 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 nelle mie preghiere un abbraccio al grande Nicola che è bagnato quindi benedetto dopo questa giornata ci siamo veramente bagnati fino alle ossa davvero c'è da dirlo un saluto a Rossano Giorello a Flavio Lanci a Rita Marinetti a Flaviano Fortunato a Bartolomeo Notarangelo Costantino Montebove Salvatore Di Marino l'aveva appena salutato forza Mirco De Carli altro elemento altra persona che poi paga di persona anche con la fatica fisica che qualche volta lo mette KO e invece forza che adesso serve la spinta di tutti soprattutto di noi che ci abbiamo messo la faccia più volte un saluto a Felicita Peracchi anche a Luciano Signorile a Andrea Salvati altro amico popolare del del Sud a Diego Esposito di Terni a Lodovico Pontoni a tutti voi un abbraccio forte davvero e ho detto Flavio Lanci non Flavia Lanci spero di no Flavia figurati non ti vorrei mai far maschio un saluto a Manuela Pongiduppi Leuteri che ha consentito e anche provocato questa diretta pomeridiana domenicale a Marco Salvadori a Anna Ciappa straordinaria presenza ai tavolini del PDF Roma a Simone Mondiali a tutto il PDF Bergamo straordinario nel lavoro fatto sul territorio anche per numero di firme raccolte a Danilo Bassampi PDF Padova Idem Cum Patate Mariano Apuzzo PDF Napoli Federico Lombardi Enzo Giampieri siete davvero tantissimi un ringraziamento forte e un abbraccio con tutto tutto il cuore da parte mia a ciascuno di voi ridiamo cuore un cuore all'Europa all'Europa dei banchieri dei finanzieri e burocrati che hanno perso completamente il cuore andiamoci a riprendere il discorso di Benedetto XVI e ridiamo un cuore con il nostro cuore all'Europa ciao Daniela Tascini ciao Piera Giacometti ciao a Catiuscia a Mariana a tutti voi da Maria Di Noffi una buona giornata una buona serata una buona domenica per quel che resta a tutti voi e buona campagna elettorale per il popolo della famiglia alternativa popolare con il partito popolare europeo per ridare un